Ecco fatto! Abbiamo alzato un razzo! Padu, ci serve una traduzione al volo! Aspetta! Timo, avete avviato il lancio? Ehm... forse? E allora uscite di lì! Capito! Via, via, via! Ehi, di qua! Via, via! Ma che cavolo è quello? Attenzione! Qualcuno ha qualche idea brillante! Perda, così schiazza la piattaforma! Siamo in troppo! Facciamolo mollare! Ehi! Che cazzo è uno schiavatoio? Alle parti aperte! Sparate alle parti aperte! Nelle parti aperte ci sono succhi a sangue! Succhi a sangue! Succhi a sangue! No! 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 Su above! Na! No! No! No, no! No! Ne resta uno Così ci schiaccia Spiazza foglio aperto Ecco, fatto Non mi scendiamo Via, via Non c'è tempo Non c'è tempo Stormo, Stormo Eliminiamolo Non farlo mai più Cercate una perfunzione Un altro Uno spiattatoio aperto Uno spiattatoio aperto Ok Ok Andiamo da questa dannata torre Forza Mi teletrasporto Ti va Oh Si sta per lanciare Ascensore 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 Si Si Passiamo sotto i motori Accidenti Dobbiamo andarcene Figlio di portare Indietro Indietro Wow Oh 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 Allontanateli Oh Siamo bloccati qui Ci serve un'uscita Oh 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 Colpisce si sta ritirando andiamo si sta bloccando continuiamo a farlo arrabbiare si sta caricando spara alla lingua la lingua concentrate il fuoco sulla lingua la lingua la lingua si sta ritirando no non è vero andiamo muoversi 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 continuate qual è la distanza di sicurezza continua a correre forse lo scopriremo non ce la faremo va bene forza forza andiamo lo sapevo mi tocca salvarti di nuovo aspetta stai tenendo il colto siamo a porta applauso andiamo ad ecco il lodo no è avverrato aspetta e i 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 8 a 4 Stupidi comandi COG Sì, mi sa che mi sono stirato la schiena Così questa è nuova e fira Dimora di industrialisti, tecnofascisti, reazionari e codarti Sì, ci sono anche ottimo cibo, acqua pulita e doce Beh, è sopravvalutata Delta, bentornati a casa Ora venite subito alla mia officina Manderò qualcuno a prendere i segnalatori Ricevuto, Baird, arriviamo Prego Ehi A proposito, grazie Non c'è bisogno che mi ringrazi Oh, allora la gang è di nuovo riunita Vi faccio una foto da mettere nel diario Dio, quanto sei stronzo Oh, smetti di innamorarti di me Sul serio, è imbarazzante Come siamo messi? Quei satelliti sono collegati Beh, senz'altro si stanno divertendo insieme D'accordo ragazzi Avvicinatevi E ora Osservate Bella dimostrazione, Baird, ma funzionerà Beh, ci serve un test per saperlo Lascia perdere i test Ci serve un vero bersaglio Se vogliamo scegliere un bersaglio non sarebbe meglio se ci fosse una vera autorità militare Sei Fas, giusto? Sì, signore Chiudi quella cazzo di bocca, Fas Sì, signore Lo sciame ha la sua regina Il che vuol dire che da qualche parte c'è un alveare speciale O un Nexus Qualche punto dove sono ovullerati Ok E come lo troviamo? Non lo troviamo Perché potresti già saperlo Come faccio a saperlo? Sarò molto sincero con te Mentre eravate via Gene sei in bestialità perché voleva ricollegarti alla mente collettiva Scusa, come? Non preoccuparti L'ho convinta a lasciar perdere Ma ho bisogno che tu pensi a quello che hai visto nella visione A ogni dettaglio C'è qualcosa che può aiutarci? No No, insomma Cioè, io non credo Adesso ci pensiamo noi, sergente Scusate, non si usa a bussare Un primo ministro non ha bisogno di bussare Non sono per niente d'accordo Gene, te l'ho detto Questo non succederà E lei che ne dice? Beh, considerando che la cosa che mi legava alla mente collettiva è morta L'abbiamo uccisa a proposito E considerando che di te non mi fido per niente Devo rifiutare Arrestatela Cosa? Sì, sei impazzita Signora? Iris, che succede? Violazioni di sicurezza multiple Provine di etina vecchia Telecamera esterna 16 Telecamera esterna 15 Telecamera 10 Ah, dannazione Sono qui E allora ce ne andiamo Ok, ho capito Te la cavallo Puoi aiutarci a porre fine a tutto questo? Senti Cosa cazzo credi che abbia fatto? Finora Puoi aiutarci a piacere No 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 Grazie a tutti.